Il Cinecircolo Santa Chiara Un riferimento importante del Cinecircolo Santa Chiara Insieme ad altri amici Naturalmente saluto anche l'amico Gennarelli Andrea Oggi, Andrea, avete vissuto questa esperienza insieme da anni ormai Ormai sono quasi 30 anni Ormai sono quasi 30 anni Parliamo oggi di cinema La prima domanda che sento subito di farti, Enzo, è questa Il rapporto della città di Avellino con il cinema C'è una presenza che aleggia da sempre nella nostra città In particolare, in Irpinia, ma soprattutto ad Avellino Ed è l'esperienza della cenotola L'esperienza che per quanto mi riguarda Mi ha coinvolto addirittura le scuole medie Mi ricordo Camillo Marino Che veniva nelle classi dell'Enrico Cocca Per distribuire i miti del festival del cinema per ragazzi Che si faceva a lunghello Successivamente ricordo l'Eliseo Che è una nota dolente Diciamo della passione avellinese per il cinema Ricordo all'Eliseo varie edizioni Dopo parliamo dell'Eliseo Dopo parliamo dell'Eliseo E quindi non può il cinema eradicato Nella storia Nella passione di molte persone Della mia generazione Ma ritengo anche delle generazioni successive Ecco Avellino ha vissuto il cinema sempre come un luogo Tra l'altro Di formazione permanente alla politica e alla giustizia Sicuramente Il cinema ha una sua dignità fondamentalmente legata Alla immagine Quindi vicina alla sensibilità di tutti E il cinema civile ovviamente Quello della Cenodoro È stata un'esperienza importante Straordinaria Che ha coinvolto Pasolini A suo tempo Paolo Pasolini Tra gli ispiratori della rassegna A fine anni 50 Inizio anni 60 Quindi voglio dire Non può non essere Un caposaldo Del bene comune Della dignità Di quei valori Umani E civili Che Insomma Ci caratterizzano Diciamo da Da sempre Come ci caratterizzano Secondo la tua esperienza A livello proprio di autocritica Però serena Il Cinecircolo Santa Chiara Ha prodotto dei risultati Intesi Come aspettativa culturale Che ha avuto una risposta nel tempo O alla fine C'è una sorta di delusione C'è una tua valutazione Del percorso che tu Insieme ad altri ottimi amici Avete fatto Sì Con Andrea Andrea Gennarelli Abbiamo sviluppato questa esperienza E la cosa che Mi Diciamo Ha sorpreso Nel tempo Anche perché La cosa l'abbiamo iniziata Più di 30 anni fa Poi C'è stato un periodo Di interruzione Diciamo Dell'attività Perché eravamo impegnati Entrambi Su fronti diversi Lavorativi Scolastici E eccetera Per buona sostanza Con Andrea Abbiamo rilevato Che c'erano delle persone Incontrate 30 anni fa Che abbiamo rincontrato Negli ultimi due cineforum Dell'anno scorso Insomma Avellino Avellino A sede di cinema C'è una memoria C'è una memoria C'è una memoria C'è una memoria C'è una passione forte Che richiede Anche Di essere soddisfatta Ci sono Ben 5 associazioni Di cultura cinematografica Di cui elencare Due, tre Ma innanzitutto C'è Il cinecircolo Immaginazione Che organizza L'esperienza Della cinemodoro Poi La seconda Centrodonna Che fa riferimento Franca E Vittoria Troisi Poi C'è Ziavidi Che fa riferimento Diciamo A E' un'esperienza Nata Tantissimi Tantissimi Anni fa E fa riferimento Anche Questa A Michela Che è stata Anche Assessore All'Augultura All'Augultura Senti Ora Da qualche giorno C'è stato L'anniversario Di Pasolini Al cinema Il cinema Ineseo C'è stato Un grande Raduno Hanno colorato Anche Visto Tutta la Struttura Dell'ex Gil Però Quella struttura Di fatto Si viene utilizzata Ogni tanto Vengono fatte Delle promesse Ma non è a disposizione Anni fa ci fu anche Intervento Della magistratura Come la vedi quella struttura Veniamo al presente Quella struttura Se tu fossi il sindaco Di Alino O Il responsabile Di quella struttura Come la investiresti In questa città Sicuramente Sul cinema Non solo Con la biblioteca Di Camilo Marino Che Un'altra persona Straordinaria Come Paolo Speranza Non l'ho citato prima Lui è Diciamo Il cinema sub Per buona sostanza Ecco Così bravo È stata Grandi personaggi Esatto E Dicevo Paolo cura La biblioteca Che Camilo Marino Ha donato Alla città di Avellino E Questo è l'inizio Ma ci sarebbe Da fare tantissimo Anche in termini Proprio Di produzione Perché Molte persone Molti ragazzi Si sono Come dire Proposti Come Filmmaker Oramai Anche Tu lo stai Utilizzando In questo momento Questa Questa modalità Espressiva Quindi Concedere L'Eliseo Alle associazioni Penso sia Quasi naturale Senti Oggi il cinema Come affronta Il problema Dell'impegno civile Della giustizia Abbiamo avuto I grandi film Faccio per esempio Don Puglisi Altre storie Legate Paolo Corsellino Che momento Che momento Sta attraversando Il cinema italiano Dal punto di vista Dell'impegno sociale E del bene comune E poi Mi riservo anche La domanda successiva E te l'anticipo Che ruolo ha La voce dei cattolici Il cinema Il cinema Allora il cinema Per quanto Penso e ritengo È un referente importante Perché ci sono Di esempio I film Di un regista Come Ken Lodge Che è stato Tra l'altro L'ospite Qui a Dalline Dell'Asceno d'Oro Un po' di anni fa Sono Dei riferimenti Importanti Fondamentali Questa Diciamo Logiche Soprattutto Sul bene comune Ma anche Proprio Sulla cittadinanza Attiva Cioè Sull'essere Come dire Consapevolmente Responsabili Delle proprie Azioni E Della Partecipazione Della gestione Della Della città Della città Dell'uomo Noi prima Parlavamo di personaggi Come la vita Sì Come Dossetti Soprattutto la vita Come sindaco È un riferimento In faro Per quanto Mi riguarda E Cerchiamo Come dire Di Verificare Nel concreto Questo servizio Come tale Senza Nessun scopo Liucro O Altre Problematiche Diciamo Propagandistiche Senti Il cinema È come Motore di pace Sì Sicuramente Specialmente In questo momento Che stiamo Dendo Penso sia Come dire Importantissima Questa Cosa Che mi hai chiesto Perché Come dicevo L'immagine È Una Modalità Di comunicazione Presente Ormai Nella Nella nostra Quotidiana Esperienza Diciamo Umana Quindi Ritengo Che Proprio per questo Il cinema Possa Assolvere Una funzione Fondamentale Importante Nel Riprendere Quei concetti Che Del bene comune Della cittadinanza Responsabile Della partecipazione Democratica Della partecipazione Democratica Purtroppo Come dire Diamo per scontata Ma Di fatto Senti Parliamo un secondo E poi Stiamo alla fine Di questa piccola intervista I progetti Del Cinecircolo Sant'Aiara Siamo attivi Nella Operatività Diciamo Del Cineforum Già da qualche anno Nella parrocchia Di Santa Maria Di Costanti Nupoli Con Don Emilio Carbone Grazie credo A Don Emilio Carbone Naturalmente Grazie a Don Emilio Che è sensibilissimo A questa Esperienza Ci ha Aperto le porte Del Del Lipogeo Che è diventato Un Come dire Un riferimento Proprio Delle proiezioni Che vengono Fatte lì Da Da Cinecircolo Sant'Aiara Senti Un messaggio Un messaggio Un ciclo di servizio L'ultima domanda Un messaggio Dalla tua esperienza Come Cinecircolo Sant'Aiara Alla città Alla provincia Che in questo momento Ci senti O senti di dire Qualcosa Che da tempo Non hai detto E vorresti dire Fai tu le conclusioni Ma vorrei semplicemente Che ci fosse Come dire Uno spazio Fisico Oltre Quello temporale Per comunicare Per ritrovarci Dei luoghi Diciamo Dove potersi Incontrare E crescere insieme E crescere Crescere anche Sicuramente Cinema Per me è stato questo Mi ha Come dire Accompagnato Nello sviluppo Dei miei studi Insomma Dell'esperienza Diciamo Scolastica E culturale Vorrei che questo Fosse presente Anche Ai miei figli Particolarmente Ma Insomma Vorrei che questa fosse Una chiave di lettura Molto comune Per poter Veramente ritrovarci Bene Grazie E auguri Al Cinecircolo Sant'Aghiera Sicuramente Ok Grazie Ciao Vincenzo Ciao Ciao Grazie a tutti